L'anno scorso è stata la miglior difesa d'Italia dalla D alla A con appena 18 reti al passivo in un'intera stagione. Quest'anno i gol subiti dalla Fidelisandria nel girone C di Serie C sono già 17, così i componenti del reparto arretrato stanno trovando un'altra via per contribuire. Quella della rete non evitata ma realizzata. L'ultima prova l'ha data Andrea Venturini, autore del gol vittoria domenica scorsa contro la Turris. Dal destro del numero 4 è partita la traiettoria che ha beffato il portiere avversario Perina e regalato al gruppo di Ciro Ginestra la prima vittoria a Casalinga in questo campionato. Appena mi è arrivata la palla l'ho stoppata e ripeto, non ci ho pensato due volte perché ho visto tutta la squadra avversaria venirmi incontro, ho tirato e poi io sinceramente ho mirato la porta. Poi c'è stata la deviazione dell'avversario, ho visto la palla che si è impennata, è entrata dentro, mi sono girato e ho iniziato a correre, volevo correre verso la panchina ma ho entrato di fronte tutti i miei compagni. Pian piano ho spinto uno, ho spinto un altro, tanti abbracci, tanta felicità. Mi ha dato anche un po' di carica, magari in un momento in cui stavo giocando poco, fa sicuramente piacere. Benvenga all'Avellino, Sabatino al Taranto, Venturini alla Turris, le ultime tre reti della Fidelis sono state griffate da altrettanti difensori. Aggiungendo all'elenco anche il centro di Benvenga su punizione a Catanzaro, si scopre che la difesa ha fatturato quasi il 50% dei nove gol sin qui realizzati dall'Andria. Un elenco completato da Bubas di Piazza, Casoli, Di Noia e Bolognese, tutti a quota 1 per Venturini, quella contro i Campani e la vittoria della ripartenza. Siamo partiti un po' malino in questo inizio di campionato, sapevamo tutte le insidie e difficoltà di questa categoria. La prima vittoria senza subir gol, è una vittoria che mancava mi sembra da un mese circa, da un sacco di tempo. Adesso è un po' di ossigeno perché ci voleva un po' di morale, alla fine così anche la piazza, i tifosi sono contenti perché oltre alla vittoria c'è stata una prestazione, abbiamo sofferto tutti insieme. Testa a Latina, prossimo avversario sabato e ultimo a otto punti con la Vibonese a meno uno dalla Fidelis. Per la trasferta a Pontina, Ginestra, da ex bomber di categoria, chiede risposte anche ai componenti del reparto avanzato. Se è vero che solo Bari e Catanzaro hanno mandato a segno più giocatori dei bianco-azzurri, è altrettanto certo che solo la Vibonese con sette reti. Ha fatto meno gol della Fidelis sin qui a quota zero, per esempio, ci sono ancora Alberti e Tulli nella loro attesa ad Andria. Il miglior attacco resta alla difesa.